Ciao ragazzi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento, quello settimanale, con The Motto of the Day Today's motto is With the letter M And here it is Marry in haste and repent at leisure Diciamo che è uno di quei modi di dire che si adattano molto bene a tutti coloro che non vedono di buon occhio in matrimonio, infatti il prodotto letteralmente significa sposati in fretta e pentitene con comodo, in realtà poi non c'è un corrispettivo italiano o un modo di dirlo italiano che lo riproduca dal quale, quindi ripetiamolo insieme Marry in haste and repent at leisure That's all folks, so have a nice weekend, see you next Saturday with the new motto of the Bye!